Ciao belli miei benvenuti all'interno di questo nuovo video bomba, all'interno di Brawl Stars, parliamo di tanta roba oggi, parliamo veramente di tanta roba. Ossia quando arriva il nuovo aggiornamento di Brawl Stars, è un argomento che non ho ancora trattato ma lo voglio trattare fuori, dato che ieri abbiamo parlato di Clash Mini, a proposito se non avete visto il video lo potete andare a recuperare all'interno del mio canale, oggi voglio parlarvi invece di un argomento un po' diverso. Non lo so, voglio capire un po' di robette, infatti Brawl Stars è un po' fermo con gli aggiornamenti, c'è da dire che è un po' fermo, un po' tanto, nel senso che potrebbe essere sicuramente essere messo meglio ma non importa, perché noi vogliamo andare a fare un'analisi della situazione il più corretta possibile. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per vedere altri video di questo genere, io direi che possiamo entrare subito all'interno del mio profilo di Brawl Stars ed eccoci qua, andiamo a farci una partitina veloce come al solito, sapete che a me piace accompagnare i contenuti e aggiornamento con quelli che sono delle partite che faccio tranquillamente, 29.456 sono le coppe a nostra disposizione, devo far giusto una vittoria, a proposito del video delle vittorie lo trovate qua nelle schede cliccabili, vi ho presentato dei tutorial che io trovo utili per andare a vincere le partite, ossia l'esempio, ho fatto un esempio molto basilare, quello di andare ad utilizzare all'interno di una modalità come basket un brawler come barrel, quindi semplicemente un'analisi delle comp e dei brawler migliori per modalità, dove sono andato ad individuare all'interno di una modalità un po' nuova, cioè nuova oddio, sicuramente più nuova di Brawl Ball, un brawler che veramente sta molto bene sulla maggior parte delle mappe e questo brawler è appunto il buon, è il buon, il buon barrel, qua sicuramente Gelindo funziona anche molto bene, devo dire che anche la loro comp però, con Bea in una mappa del genere, nel quale ci sono sicuramente molti spazi aperti rispetto, rispetto al solito, può workare anche lei molto molto bene Benissimo il fatto di aver fatto fuori la Bea, devo dire che una volta che fai fuori Bea con una comp del genere sei abbastanza sbalangato, nel senso che hai delle probabilità sicuramente molto più aggiuntive rispetto alle altre C'è da dire che qua ho avuto molta sfortuna perché ho fatto un grande, un grande shot che non ha ottenuto il successo che meritava, quindi la colpa sì è mia ma fino ad un certo punto Cioè qua veramente c'è molta 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 sfortuna, ve lo devo dire veramente sinceramente, non me l'aspettavo, non me ne frega niente sinceramente però perché voglio andare a fare un canestro di questo tipo Che però non si concretizza, cioè pure questi canestri qua non si concretizzano, capite bene che poi le partite non le vinci anche per questi eventi qua, perché non è che si può vincere sempre Diciamo che la maggior parte delle volte dove fai delle cose del genere funzionano, in questo caso non funziona Qua forse se tutto va bene riesco a fare il canestro siamo 2 a 2, quindi 2 a 2 palla al centro e qua sta tutto nella nostra bravura di schivare i colpi e di non farci prendere dal panico Sicuramente qua io ho una buona tripla che posso fare, non so perché abbiano tolto le triple, cioè le triple erano così comode e ti obbligano a fare l'ultimo rush che non deve essere fatto Porca miseria, la vinciamo comunque noi, devo dire ottimo risultato da parte della squadra del Vapor che si porta a casa, una vittoria molto importante perché il Vapor arriva alla soglia numero 4 e quindi ci permette di ottenere dei vantaggi in più Basket Brawl sempre schiacciata, all'interno di questa mappa forse Barrel funziona sicuramente molto meno All'interno del pass cosa abbiamo sbloccato? Abbiamo sbloccato i crediti cromatici che sono sicuramente da andare ad alloccare E ce li togliamo subito dalle valle, siamo a 380, molto vicino a quello che è lo sblocco del nuovo brawler cromatico che vi ricordo è E lui, ossia Mandy, Mandy, Janet e Otis, sono loro i tre brawler cromatici che ci mancano all'appello Ma facciamo un riepilogo di quello che è la situazione aggiornamenti di Brawl Stars in modo tale che coloro che magari non hanno seguito bene gli ultimi update sono aggiornati al dettaglio Ed infatti vi voglio presentare queste notizie qua che reputo molto 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 interessanti In quanto belli miei abbiamo oltre a in sé per sé una cosa molto carina che è l'ultimo aggiornamento che è stato fatto Vi ricordo che con l'ultimo aggiornamento Brawl Stars ha deciso di rimuovere le casse E' un aggiornamento che risale in realtà un po' di tempo fa, si parla di praticamente inizio dicembre o comunque dicembre Quindi abbiamo un mese e mezzo di Brawl Stars da queste parti Bisogna capire come funziona il nuovo aggiornamento Secondo me sicuramente il nuovo aggiornamento può implementare delle nuove futures E una cosa che sinceramente spero tanto è l'implementazione di un nuovo sistema ladder Un sistema ladder rivisitato perlomeno che possa far ritornare i giocatori a scalare Perché poi alla fine Brawl Stars perché andava bene Perché i giocatori scalavano, si parlava tra amici Ehi wow ho fatto quello, ho fatto quell'altro, io non l'ho fatto, adesso lo devo fare E il gioco funzionava molto bene ragazzi Vi parlo di un gioco che veramente ai tempi mi teneva attaccato allo schermo Purtroppo non è così, sono abbastanza dispiaciuto di questa cosa e voglio capire il perché Quindi lo voglio andare a snocciolare con voi Lo vado a snocciolare in maniera un po' diversa dal solito Perché secondo me il nuovo aggiornamento uscirà innanzitutto a metà febbraio Quindi parliamo di San Valentino, con San Valentino deve esserci il nuovo aggiornamento Questo è un mio pensiero, naturalmente può essere più o meno diciamo contrastante con i vostri Però perlomeno verso metà febbraio un qualcosa dovremmo avere Cioè almeno un input deve esserci Cioè deve esserci un input, non può non esserci Dall'altra parte però la domanda è una domanda che sicuramente è importante Come caspita si implementerà il nuovo aggiornamento con quello che è tutto Brawl Stars Secondo me il nuovo aggiornamento arriverà con un recupero della ladder Può essere introdotta in una nuova modalità ma dubito fortemente perché Brawl Stars solitamente non fa queste scelte un po' Azzardatucce E niente sono abbastanza curioso di sapere che cosa uscirà fuori Sinceramente sono abbastanza curioso Cioè sono abbastanza curioso di tutto Ma vabbè questo è un altro discorso Fatemi sapere qua sotto la vostra Gli aggiornamenti importanti in realtà non ce ne sono Se non il fatto che è stato introdotto il nuovo gadget della Buona Mandy La nuova Star Power Niente di così eclatante E quindi niente Sono in realtà abbastanza curioso Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti Come al solito Io vi ricordo che Che come al solito avete l'opportunità Di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella E niente belli miei Noi ci vediamo domani a ore 14 con un nuovo contenuto Vi invito a seguirmi su Instagram e TikTok Che sono altri due social che stanno andando molto bene E di conseguenza vi consiglio di andarmi a seguire Anche lì porca miseriaccia se non lo fate minca volicchio A domani belli miei Ciao